Allora ci vediamo qua su Warzone Andiamo su per capire con questa bellissima classe Questa è davanti almeno, ci vanno su il ferro Allora, lo vado ad ampio Mi sta districchendo Ah no Non è vero L'erogine Mi ha distrutto quattro volte Di fila Iscriviti Non lo vado Cosa Chia Le Giro Nooo Non è vero Da però ho fatto una uccisione bellissima iscrivetevi al canale con un'altra notizia like e like e condividete con i miei amici e commentate se volete un'altra classe nemico in discesa nell'area operativa sono migliorato perché mi sono allenato io mi sono ubriacato non scherzo un po' mi sono allenato prendere il murino non sono un gizero perché si vedeva a voglio classe 1 non ho esatto eh questo mi avrà segnalato sicuramente lo sto torturando che cosa mi ha preso oggi ma l'ho così c'è l'ho ponato l'oro non ho capito neanche io quello che ho fatto però s'è stato qualcuno lo, però è stato qualcuno e l'anno sull'ann niente io sempre una granata voglio bene senza una e una a che peccato a che non è raccoglato a che non è raccoglato e non ci so a che ci so cagato Sarmersi per colare, per te vedi per la cazza. Ah! 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 terra la città attacca oggi è con un attelare è bello che è un attelare città la città la città in discesa nell'area occhio in alto la città è un attelare è un attelare un attelare un attelare un attelare un attelare un attelare l'aventura scattare un attelare un attelare un attelare Vabbè 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 Soldato nemico in arrivo Versaglio taglia identificato Vabbè 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 După Vabbè Vabbè Si Continu Inca Inca Vabbè 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 Ci Nu Chi? Chi? Azi E' su commentario, che buono arrivare a me un avanti chi? Sunato! Buonasera Paulo! Ah! Mi sono andato da solo Ehi, ma pure la marchia diceva una cosa e un po' Oh, c'è questo, c'è questo Azzokocuña, a la Kikuchi BAM Alla piscucci Stai rimbarla piscucci Alla 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 piscucci Si no hay problema Serti inda Serti inda Prova Alla piscucci Alla piscucci Ah siamo di fattato kill Non ci arriviamo Non ci arriviamo Non ci arriviamo Non ci arriviamo Secondo voi Non ci arriviamo Non è nada Prima Ah no Ora posso il teco bianco Facciamo la kill Dai buono però E finita Così da Non ci arriviamo Non ci arriviamo Paulio Ora vi dico La casa Dico come ho fatto il clark Del 1 Un clark Dico come ho fatto il clark intanto non si è il silenziatore perché no no questa la canna pesante per ora a posto di laser non ci serve questo così così a posto di funerino andiamolo a provare bellissimo non mi ricordo tanto com'è non mi dà fastidio se mi piace il carrot mi dispiace ma mi serve a tanto ok Grazie a tutti 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 Oh beh Grazie a tutti